vai rompo? dalla cina con furoni accidenti un dado un dado yeah vediamo sommiamo tutti i lati 3 più 2, 5 più 4, 9 più 5, 14 più 6 21 no, 14 più 6 20, allora riproviamo 20 4 più 6, 10 più 5, 15 più 3, 18 più 2 20 più quell'altro che è 21 e 21 che cos'è? il numero della protezione la mia data di 10 quindi ho zecchiato il regalo cioè con un dado t'ho trovato praticamente e io lo conferverò la tua data di nascita poi va bene legato al dado e lo porterò sempre con me in tutte le mie avventure e poi legato al dado c'è una letterina che praticamente che volevo leggere in stile farmaceutico infatti bisognava dare al dottore della farmacia per farlo interpretare visto che loro leggono le ricette i geroglifici perché la mia è una scrittura geroglifica comunque grazie ecco perché Niki è una persona speciale per me oltre che ogni volta che lo guardo agli occhi mi sembra mio figlio Federico perché agli occhi vale vabbè insomma Niki Giussino appunto è anche una persona molto ma molto profonda non sembra ma è vero è molto corpulenta diciamo noi ci facciamo questa pizzettina bella calda calda ciao ciao